Cari ascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro appuntamento con il programma Pensieri, Parole e Musica, la trasmissione che va in onda ogni 15 giorni sul Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, il lunedì alle 10.03, in replica sempre il lunedì alle 19.06 e il martedì alle 21.30 sulla frequenza 87.6 MHz oppure su tunane.com digitando RADIO SPERANZA PESCARA. Giunga, un cordiale saluto a tutti voi dal direttore Donremo Chiuditti, da Natascia Chiuditti alla console tecnica e musicale, da Massimiliano Spiriticchio della redazione giornalistica e da me, Daniele Aquieti, al microfono. Eccoci di nuovo insieme per pensare, parlare e ascoltare musica. Siamo a febbraio, il più corto dei 12 mesi dell'anno. Il suo nome ha origine dal latino febbruare, cioè purificare. Infatti, febbraio era nell'antichità un periodo dedicato a rituali di purificazione prima della primavera, che, nella quotidiana spontaneità delle zone rurali, avevano fuso elementi pagani con la religiosità cristiana, dando origine al folclore di tante celebrazioni popolari. Dal punto di vista climatico, febbraio è l'ultimo mese dell'inverno. Anche se fa ancora freddo, le giornate sono più lunghe, e sui rami di alcuni alberi iniziano a svilupparsi le prime gemme, cominciano a sbocciare le primule, le viole del pensiero e le mimose, quasi a voler annunciare che la stagione primaverile non è poi così lontana. Febbraio è prediletto dagli antichi proverbi perché la saggezza popolare, legata al mondo contadino, ai lavori da eseguire in campagna e al clima stagionale, ha sempre avuto una grande considerazione delle vicende meteorologiche di questo mese, che può rivelarsi decisivo, per il buon esito o meno, di abbondanti frutti e raccolti. Nel tempo passato, l'economia familiare era basata principalmente sulla produzione agricola e la stagione invernale, soprattutto nel mese di febbraio, rappresentava una fase di attesa e di preoccupazione, sia per il futuro sia per l'immediato, poiché in questo periodo le provviste alimentari e il mangime per il bestiame iniziavano a scarseggiare. Inoltre, l'eventuale maltempo avrebbe potuto causare enormi danni alle colture. Ci si augurava quindi che febbraio fosse freddo, impedendo ai semi di svilupparsi verso l'esterno, salvaguardando così la robustezza delle radici. Per questo motivo, tanti i proverbi fanno riferimento ai ritmi della natura e dei campi di questo mese. Se di febbraio tuona, l'annata sarà buona. Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio. L'acqua di febbraio è promessa per il granaio. Febbraio, corto e amaro. Febbraiuzzo, peggio di tutto. Questi detti esprimolano le difficoltà di un periodo dell'anno in cui si doveva fare ricorso alle provviste invernali quasi esaurite, proprio quando l'organismo, per affrontare le temperature più rigide, aveva maggiormente bisogno di nutrimento. Comunque, anche quando nell'inverno la natura sembra addormentarsi, l'orto riesce a donare frutta e verdure di stagione ricche di vitamine e sali minerali, con cui preparare piatti semplici ma nutrienti e gustosi da mettere in tavola. Poi, il 14 febbraio, viene festeggiato San Valentino, ricordato un po' ovunque come il santo dell'amore. Questa ricorrenza, però, è stata depoperata del suo significato originale, assumendo purtroppo un aspetto prevalentemente consumistico. San Valentino, vescovo e martire, patrono della città di Terni, fu decapitato nel 273 a Roma, all'epoca della persecuzione dell'imperatore Aureliano. Anche se di lui non si hanno molte notizie, la vera essenza dell'anniversario è racchiusa nel messaggio di un amore autentico, che caratterizzi l'uomo nel segno divino della solidarietà, della pace e dell'unione. Il 14 febbraio ricorda anche due santi molto significativi per la storia europea, Cirillo e Metodio, fratelli di sangue e di fede, nati a Tessalonica, l'attuale Salonicco in Grecia, all'inizio del IX secolo. Essi evangelizzarono i popoli della Pannonia e della Moravia, crearono l'alfabeto slavo e tradussero in questa lingua la scrittura e i testi della liturgia latina, aprendo ai nuovi popoli la parola di Dio e i sacrementi. Per questa loro opera di evangelizzazione sostennero prove e sofferenze di ogni genere e nel 1980 furono proclamati i compatroni d'Europa da Papa Giovanni Paolo II. Ora un intervallo musicale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Torniamo ai nostri pensieri carissimi ascoltatori di Ragio Speranza. Il mese di febbraio, anche se breve e freddo, è ricco di particolari ricorrenze religiose. L'11 febbraio si ricorda l'anniversario della prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes, Nel 1858 alla giovane quattordicenne Bernadette Soubirous, nella grotta di Massabietra, i Pirenai francesi. Bernadette era andata a raccogliere della legna sul greto del fiume Gaib, insieme alla sorella e a una loro amica. Rasentando la sponda del corso d'acqua, il piccolo gruppo giunse davanti a una grotta, attraversata di fronte da un piccolo canale che le compagne di Bernadette attraversarono senza indecisione. Bernadette, invece, rimase indietro perché esitava a immergere i piedi nell'acqua gelida a causa della sua precaria salute. Improvvisamente un rumore, simile a un colpo di vento, richiamò la sua attenzione. Lei si volse nella direzione degli alberi, pensando che il fruscio giungesse da essi, ma vide che le piante erano ferme. Percepì un nuovo rumore, quindi comprese che proveniva dal cespuglio di rose all'interno della grotta. Fu allora che nel cavo della roccia Bernadette vide una giovane signora vestita di bianco, con le mani aperte in un gesto di accoglienza. Credeva di sbagliarsi, si stropicciava gli occhi pensando che si trattasse di un'allucinazione. Guardò ancora e vide sempre lì la stessa signora. La vergine le fece cenno di avvicinarsi, ma la fanciulla, sorpresa e turbata, non ne aveva il coraggio e non sapeva cosa fare. La signora le apparve in seguito diciotto volte nella grotta, di cui undici nello stesso mese di febbraio. Bernadette sentiva una forza interna che la spingeva a tornare nella grotta. Durante la terza apparizione del diciotto febbraio, per la prima volta la signora parlò a Bernadette dicendo, «Non vi prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro. Volete farmi la cortesia di venire qui per quindici giorni?» Nell'apparizione del 25 febbraio, la vergine indicò alla ragazza il punto in cui scavare con le mani la buca da cui cominciò a sgorgare in abbondanza una sorgente d'acqua, al cui contatto sarebbero avvenuti tanti miracoli e conversioni. Un cieco si bagnò gli occhi con quell'acqua e riacquistò la vista all'istante. Ed allora la prodigiosa acqua della Madonna di Lourdes è diventata famosa in tutto il mondo. La signora confidò a Bernadette tre segreti che la giovane non avrebbe dovuto rivelare mai a nessuno. Durante questi straordinari incontri, Bernadette comprese, grazie a Maria, che Dio si interessa a lei, povera e semplice, ma dedita con il cuore al rosario e a tutti coloro che il mondo emargina e ignora. La grotta di Lourdes è sempre lì, con la sua altissima spiritualità, rischiarata ora dai ceri accesi che brillano di fede e di speranza, levigata dai baci dei pellegrini, commovente e incessante meta di cristiani e ammalati che vi giungono da tutte le parti del mondo, invocando protezione e conforto, nel segno di una luce che illumini ogni tenebra. Davanti alla Madre Celeste tutti sono fratelli nel perdono, nella preghiera, nell'amore e nelle sante intenzioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.